Buongiorno e benvenuti in un nuovo video ebbene si raga, oggi faremo insieme un cheat day questo è il mio cheat day sono sincera, all'inizio volevo fare una 10.000 calorie challenge però poi ho pensato tu già ultimamente non stai mangiando molto è inutile fare una challenge del genere e non goderti neanche il cibo sapete io, il cibo ve lo godo sempre qualsiasi siano le calorie da mangiare quindi ho deciso proprio di farmi un bel cheat day quello che più desideravo, quello mangio invece di fare una 24 ore e mangio tutto quello che voglio ho deciso di farmi proprio una mia giornata a sgarro un bel cheat day l'ho fatto e ne ho approfittato anche di questa giornata perché raga, sono due settimane anche qualcosa in più che io so veramente bassa proprio di calorie e chi mi segue lo sa ma oltre a questo perché poi si sentirò commenti ah ma tutti appuffi di cibo uh mamma mia raga rilassatevi rilassatevi godetevi il video e basta parlare sempre inutilmente però io ho voluto fare questo video anche per una cosa anzi per due cose quando vedete questo video sarà il 14 il 14 sono due anni che ho aperto il canale youtube e in due anni siamo arrivati a oggi che siamo a 7100 e non ricordo il numero preciso però siamo arrivati al traguardo di 7000 iscritti io vi ringrazio davvero tanto perché so che quei 7000 sono tutte persone e anche 100 poi ci sono persone che seguono per criticare ma le critiche ci sono sempre quindi a me non mi interessa oltre a critiche costruttive ma anche proprio critiche maligne e cattive ormai conosciamo però so che ci sono diciamo sì 7000 e qualcosa 7100 sì 7100 persone che mi seguono perché gli piacciono i miei contenuti gli piacciono proprio la mia persona la mia sincerità e quindi io vi devo immensamente ringraziare so che questa tipologia di video mi piace tantissimo e a me piace farla quindi ho un po' unito tutto quindi raga veramente grazie mille sapete che per me ormai non siete cioè non siete mai state mai usate un numero sembra una fase già fatta ma raga è la verità non siete non sarete mai per me un numero ma siamo veramente una grande famiglia dove chi mi segue anche su instagram ogni giorno ci scambiamo messaggi chiacchieriamo quindi siamo veramente una grande famiglia ormai io vi reputo tutti i miei amici miei amiche cioè vi reputo tutti tutti così e quindi raga io direi di iniziare a mangiare queste crossate fenomenali fatte da mamma e farcite da me fatte da mamma e farcite da me allora ho fatto una che voi starete vedendo con la ciliezo poi questa qui deve essere con la crema della delucious al pistacchio e questa qui invece con una crema come si chiama la crema alle nocciole però adesso non lo so quindi andiamo ad aprire la prima prostata si penso sia pistacchio mamma mia raga ma poi super morbida sto in paradiso forse con le creme non sono tante indicate perché si fa si incorpora proprio tutto e diventa un po' secchina però la che buona non sono tante Devo dire la verità Con le creme E la crema del mondo Solo che diventa molto più Pastosa Molto più Rispetto tipo sicuramente alla marmellata Quindi andiamo ad assaggiare il marmellata Vedete marmellata rimane ancora più morbida Mamma mia Io poi adoro la crostata E io le amo Le crostate Questa qui penso che sia Nocciola Sì, penso proprio di sì Nocciola io stavo editando e ho visto che la clip dopo ma io ricordo di aver fatto un unico video infatti come vedete è spezzato di solito quando finisco vi saluto sempre poi vi dico sempre ci vediamo il prossimo passo che io avrò continuato a mangiare a fare ma non si è registrato come si sarà stoppata adesso non ricordo però ricordo che quando ho scaricato le clip e poi le scarico e subito dopo di quella che io vi ho messo ci stava quella del pranzo quindi vabbè raga io qui vi lascio le calorie totali della della colazione e quindi vi lascio al pranzo eccoci qua con il pranzo allora oggi ho fatto i rigatoni che da come sapete è la mia pasta preferita con macinato e patate voglio fare una pasta e patate un po' diversa lo so che si fa col prosciutto cotto e queste cose qua solo che io l'ho voluta fare a modo mio ovviamente con olio assaggiamo mamma mia raga no vabbè avevo desiderio di una bella pasta e patate ci volevo mettere la pancetta poi ho visto il macinato in frigo che mi sognava smaltirlo detto prendiamo il macinato che goduria maro raga squisito raga provate per credere io nel mentre visto che sto solo soletta a mangiare di qua come sempre voglio vedermi una serie tv o vi stico pure quella che sto vedendo io cioè raga l'ho trovata ieri così così mi è uscita perché non sapevo quale vedere volevo vedere un film poi alla fine ho trovato questa qui che è il protettore cioè raga io mi sono innamorata infatti ieri mi sono finita già la prima stagione si chiama The Protector il protettore e raga troppo bella infatti ieri mentre editavo mentre aspettavo lo guardavo bellissimo quindi adesso mangio e mi vedo questo e mi vedo questo quindi voi vabbè vedrete tutto velocizzato un po' tagliato così ciao 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 raga comunque questa serie tv è troppo bella io ho finito oddio quindi cioè raga era troppo buono dovete provarlo ovviamente sempre camion che passano macchine io spero che questo palanzo vi sia piaciuto mi raccomando se lo rifate voglio le storie taggatemi nelle storie e niente noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda eccoci qua con la merenda voi starete vedendo proprio in questo momento la torta cioè raga è la fine del mondo vi devo raccontare un addendoto e poi inizio a mangiare tanto voi nel momento la starete vedendo praticamente vi avevo chiesto a mamma mamma se verso il mercato che lei deve andare al suo mercato prendimi un gelato anche tipo pistacchio amarena cioccolato non lo so prendimi qualche gelato del genere oppure tutte e tre gusti entrammi se trovi un tris non lo so vedi tu però io voglia di pistacchio un gelato al pistacchio comunque lei rientra a casa fa Giulia comunque io non ho trovato niente l'unica cosa che ho trovato è una torta ed è questa qui cioè raga è bellissima nella sigel penso sia la gelateria artigianale di Sicilia il deserto comunque praticamente è è una torta amarasca vi dico proprio la descrizione torta gelata al gusto pistacchio mandorlato e crema gialla con variegatura alla amarasca che sarebbe la ciliegia e panni spagna abbagnato con liquore al sangue morlacco sangue morlacco che sarebbe un liquore a base di ciliegia guarnito con marasche cioè le ciliegie sciroppate e granella di pistacchio allora raga si presenta così la fettina gelato e poi è tipo uno strato di ciliegia assaggiamo no vabbè sapete quel mio amore per questi gelati così o queste torte no vabbè mamma mia può che mi segue sa che io ho un amore per il gelato e la marena al pistacchio io impazzisco ve lo giuro mamma mia che bontà ma proprio queste torte così al gelato in generale sono troppo buone io ho assaggiato anche quella crema oppure panna e cioccolato sono buonissime mamma mia ve lo giuro vi mangerai una torta intera come fanno le persone a demolire il gelato come fate non potevo chiedere merenda migliore cioè raga veramente una delizia buona veramente molto buona e noi ci vediamo con l'ultimo no non è proprio l'ultimo perché faremo anche un frenanna perché dobbiamo assaggiare delle cose insieme quindi ci vediamo direttamente dopo con il penultimo passo della giornata che è la cena a dopo eccoci qua con l'ultimo passo della giornata in cui faremo la cena e il frenanna insieme la facciamo salata e dolce cioè raga ci mancava solo che avevo il cheddar ma non l'ho trovato perciò ho usato tipo provola ma non è la provola scamorza affumicata non ricordo se sbaglio sia quelle fettine già nelle confezioni altrimenti facevo il crispy mac bacon cioè raga alleluia cioè io adoro cioè ma parliamone ok assaggiamo che bontà con l'hamburger di scottona spettacolo sapete cosa ci voleva un bel uovo dentro con il tuorlo un po' crudo mmm è la fine del mondo e anche raga questo cheat day sta svolgendo ci sta svolgendo al termine allora io voglio andare a provare questo qui che a molti mi hanno detto che non è niente di chi è il kinder pingui al gusto ciliegia assaggiamo la gama è buonissimo mi piace tantissimo ve lo giuro si sente la ciliegia tantissimo e si sposa da dio con il latte diciamo e il cioccolato no raga è la fine del mondo buono buono e poi non so se vi ricordate nel video ma un giorno 24 ore sono cibo rosa avevo preso io quadrottini piccolini però non so se sono la stessa cosa della loaker sono i waffer questi qua è il gusto lampone e i yogurt quindi andiamo a vedere se è la stessa cosa cioè raga se sono uguali ho fatto benissimo a prenderli ma sono sottilissimi i quadratini raga io sono sottili proprio sono buoni ma troppo sottili ma non ne hanno più doppi no ma diamocele a due perché a uno non si capisce raga sinceramente i quadratini erano molto più consistenti quindi erano più buoni preferisco più questa versione che la versione a cioccolato veramente loaker che bontà che buoni raga e niente raga anche questo mio cheat day è andato a buon fine io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando mettete un pollice in su se volete altri video di questo genere e noi niente ah io volevo anche crisi bel pistaccio ma non l'ho proprio trovati niente vi proverò vi troverò vi troverò vi comprerò e vi mangierò tutti e quindi niente raga io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao